L'AMAM è il simbolo della mala gestio di un settore che per anni è stato lasciato nell'immobilismo totale proprio per reiterare un sistema che ha prodotto nel tempo solo costi spropositati a fronte di servizi che non brillano per efficienza ed economicità. Così Cateno De Luca durante la campagna elettorale delle amministrative, l'AMAM era ed è uno dei suoi cruci, 100 milioni di euro di crediti da recuperare, 25 dei quali ormai inesigibili perché in prescrizione, nonostante al recupero ci fosse una società esterna. E poi una serie di note dolenti, rete fognaria e rete idrica, autentici con la brodo. La cosa non è cambiata, le richieste di intervento sono centinaia al giorno, ma la differenza secondo il presidente Puccio e il delegato del consiglio di amministrazione alla manutenzione Roberto Cerreti è che ora chi segnala ha un riscontro. Le segnalazioni vengono incanalate in un sistema computerizzato che traccia dall'inizio alla fine chi prende le segnalazioni e chi segue successivamente il percorso dell'intervento richiesto. Chi sbaglia, insomma, chi perde tempo, viene individuato, spiega Cerreti e poi spiega rispetto ai primi mesi del 2018 siamo quasi al 65% di riscontro, cioè di interventi eseguiti. La risposta viene data entro sette giorni nei casi medio-bassi di urgenza ed entro 24 ore nei casi più urgenti. Resta sul tavolo il nodo depurazione. La zona nord è totalmente scoperta, i refugli finiscono in mare. Così l'Europa punisce lo Stato con una procedura di infrazione che significa una bella multa. Lo Stato punisce la Regione, la Regione punisce il Comune di Messina e il Comune punisce gli utenti spalmando la multa su tutti. Si attenderà un ventennio la realizzazione del depuratore di tono l'appalto da 60 milioni di euro finanziato dal Governo nazionale e affidato a un commissario.